Professore, aumentano le apparizioni di caprioli nei nostri giardini, è una presenza che ci deve meravigliare oppure la dobbiamo considerare come una normale questione di vita quotidiana? Normale meraviglia di vita quotidiana, ci meraviglia perché il capriolo è una specie naturale e si espansa naturalmente dall'inizio degli anni 70 dalle foreste casentinesi dove era presente lì da tantissimo tempo e quindi si diffonde naturalmente. Meraviglia perché chiaramente prima era stato estinto e quindi pian pianino ha riconquistato questi territori, meraviglia anche perché si pensa sempre che questi qui siano animali da bosco, non siamo in Walt Disney, non è bambi eccetera eccetera. E quindi il capriolo è un piccolo cervide che dà ambienti proprio tipo i nostri delle colline marchigiane e altro, quindi questi frammentati con un po' di boschetti, un po' di campi coltivati, un po' di incolti eccetera eccetera. Quindi a partire da quegli anni ha trovato un ambiente favorevolissimo per diffondersi fino al mare, quindi non meraviglia Fano, non meraviglia Pesaro, non sono cose particolari, gli animali hanno sempre convissuto con l'uomo quando l'uomo li lascia vivere. Questa è la motivazione forse perché le loro presenze sono più diradate nel tempo rispetto che in passato, ma qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo tenere in presenza di questi animali? Perché loro sono per noi una presenza, per alcuni di noi forse meno frequente rispetto ai nostri. Qual è il giusto atteggiamento da tenere? Il giusto atteggiamento io penso che sia un pochino quello che hanno tenuto sempre gli anglosassoni, cioè di convivenza, rispetto e convivenza. Sono sempre animali selvatici, non gli si fa caro caro perché non è giusto, non li si deve spaventare, sono belli da un certo punto, vanno lasciati in pace.